Lo ha chiamato Michele, questa giovane madre somala, forse già pensando al viaggio in Italia. A due mesi ed è il più piccolo dei 427 migranti sbarcati stamattina al porto di Vibomarina. Madre e figlio sono stati i primi a scendere dalla nave militare svedese che li ha recuperati un paio di giorni fa nel canale di Sicilia. Il dispositivo dei soccorsi messo a punto dalla prefettura è ormai ben collaudato. D'altronde è il nono sbarco nel giro di poco meno di un anno, come ricorda la responsabile dell'ufficio immigrazione della Questura, Concetta Gangemi. Sono già in atto le operazioni di pre-identificazione e stanno cominciando anche a salire a bordo dei pullman con destinazione alle varie regioni del nord Italia, nonché del centro Italia. Hanno viaggiato in condizioni difficili, stipati in un barcone prima di essere salvati dal rimorchiatore d'altura. Sono stremati e disidratati. A terra vengono rifocillati, provvisti di ciabatte e prestate le cure mediche del caso. Abbiamo avuto un caso di ipoglicemia acuto in un soggetto verosimilmente legato al lungodigiono che è stato prontamente trattato. Abbiamo avuto due traumi cranici e sono stati mandati in ospedale. Due neonati e una gravida, lo stesso l'abbiamo già portato in ospedale. Qualche caso di scabbia, ma molto limitati. Per il resto le condizioni sono abbastanza buone. Nessuno dei 427 migranti resterà in Calabria. In tarda mattinata, completate le operazioni di identificazione, i profughi sono infatti saliti a bordo degli autobus alla volta dei centri di accoglienza del nord Italia, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiati politici.